L'udienza del processo sugli isolatori sismici del progetto case slitta di 5 mesi. Il giudice Giuseppe Grieco ha infatti fatto slittare il 21 ottobre la prossima udienza, stessa data del processo sulle forniture di bagni chimici. Potrebbe configurarsi dunque anche per questo processo lo scenario della prescrizione. Alla ripresa del processo dovrebbero esserci confronti tra consulenti tecnici. I due imputati, lo ricordiamo, sono Gian Michele Calvi, direttore dei lavori nella realizzazione del progetto case, e Agostino Marioni, dirigente di una delle ditte che ha fornito gli isolatori, l'Alga S.P.A. Secondo l'accusa, l'Alga avrebbe fornito isolatori privi di certificati di omologazione. Certo è che i tempi sono quel che sono e forse potrebbe essere messa la sentenza di primo grado, ma tecnicamente non ci sarebbero poi tempi per i ricorsi in appello e dunque per il secondo grado di giudizio ed eventuale cassazione. Ricordiamo che per questo processo il giudice Giuseppe Romano Gargarela aveva condannato con il rito abbreviato, con le stesse accusi a un anno di reclusione, Mauro Dolce, responsabile del procedimento di realizzazione del progetto case. La sentenza era stata confermata anche in appello, ma lo scorso 8 aprile la cassazione ribaltò tutto assolvendolo. Dolce e Calvi sono indagati anche nell'inchiesta della Procura, svolta dal Corpo Forestale dello Stato, aperta per il clollo di un balcone avvenuto nel settembre del 2014, come ricorderete, dal terzo al secondo piano di una palazzina del progetto case di Cese di Preturo. Entrambi sono già stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione ciascuno e assolti in appello in cassazione, assieme ad altri cinque esperti, per omicidio colposo e disastro colposo nell'ambito del processo alla Commissione Grandi Rischi, l'organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio, di cui erano componenti, all'epoca, di quella ormai tristemente nota e famosa riunione del 31 marzo 2009, a cinque giorni dalla scossa mortale del 6 aprile. La situazione dei dipendenti del Ciappi è che comunque cercano di portare avanti l'attività formativa per quanto è possibile, con grosse difficoltà, ma ormai con oltre tre anni senza essere ritribuiti sono allo stremo delle forze. Ormai vivono di contributi di parenti, amici, qualcuno dorme in macchina, con una situazione veramente tragica. Una crisi senza fine, quella dei lavoratori del Ciappi, il centro interaziendale addestramento professionale industria, partecipato interamente dalla regione Abruzzo, gravato da 10 milioni di euro di debiti e con stipendi non pagati anche di 36 mesi, con alcuni dipendenti costretti addirittura a dormire in macchina e che campano con gli aiuti di amici e parenti. Oggi una delegazione di questi lavoratori ha incontrato il vicepresidente di Giunta Giovanni Lolli, chiedendo per l'ennesima volta cosa intende fare la regione per uscire dal tunnel e chiedendo l'UMI in particolare sullo stanziamento straordinario di 700 mila euro, annunciato ma mai erogato, necessario a dare almeno un po' di ossigeno ai lavoratori allo stremo. Riuscire a svincolare quell'impegno di 700 mila euro preso a dicembre dal Consiglio regionale all'unanimità e che però non ancora vengono svincolati in quanto manca la variazione di bilancio. Il vicepresidente Lolli e il direttore del Dipartimento Risorso e Organizzazione Ebron d'Aristotile hanno assicurato che 700 mila euro saranno erogati il prima possibile. Per il futuro, ha poi spiegato Lolli, la soluzione non può che essere quella di staccare la spina e liquidare l'ente, vendere il vendibile per pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti e ricollocare tutti coloro che non andranno in pensione come collaboratori nei vari progetti europei di formazione. L'idea è andare a una liquidazione, recuperare i beni e quindi poter pagare intanto le spettanze dei creditori, i principali creditori sono i lavoratori. Lavoratori con le loro attività invece che sanno fare, possono fare, vengono impiegati in attività utili per questa regione. RIA, ovvero le indennità individuali di anzianità, un'extra in busta paga per i dipendenti e dirigenti regionali, ha aumentato ai massimi, anche a 1200 euro in più al mese, da un improvvida legge del 2007, che poteva costare ai contribuenti abruzzesi un salasso da 100 milioni di euro, se non fosse stata dichiarata incostituzionale nel luglio 2014 con una sentenza della consulta, che è arrivata però quando molti buoi erano scappati dalla stalla. Ovvero quando oramai un imprecisato numero di dirigenti e dipendenti sono potuti passare comunque all'incasso, forti di un ricorso passato in giudicato e dopo il luglio 2014, anche a causa, denuncia il sindacato UIL, per l'inerzia della Regione, che in una ventina di casi non si è opposta alla sentenza di primo e secondo grado, anche se è forte di una sentenza della Corte a suo favore. A queste incredibili vicende è stata dedicata oggi la seduta della Commissione Vigilanza e ad essere ascoltati in primis proprio una rappresentanza del sindacato UIL, che chiede l'apertura di un'inchiesta penale e contabile in modo tale che chi nella struttura regionale abbia eventualmente sbagliato paghi di tasca sua. Abbiamo chiesto che ci fosse un'indagine all'interno della giunta regionale per verificare se ci sono state delle, come noi abbiamo rilevate, grosse anomalie, quindi verificare il comportamento, se c'è stato un comportamento corretto da parte della struttura regionale sull'argomentoria. Finora la Regione ha sborsato in indennità retrate 2,2 milioni di euro e c'è anche un altro aspetto su cui urge fare chiarezza. A quale titolo l'Ufficio del Servizio Risorso Umane sta procedendo alla liquidazione di significative somme di denaro e se c'è o meno copertura per farlo nel bilancio. Se si tratta infatti di debito fuori bilancio, dovrebbe essere riconosciuto dal voto del Consiglio regionale. Ci sono una dozzina di pratiche che in effetti meritano attenzione e però non è l'organo della Commissione di Vigilanza che deve fare questo per cui invieremo le carte ai Revisori dei Conti e credo che loro debbano essere ad intervenire. Ci sono stati dei ritardi nella opposizione alle cause e quindi le sentenze sono passate ingiudicate e quindi si è dovuto pagare. Proprio perché si parla di errori e di omissioni mi pare chiaro che si intravede da parte dei sindacati un errore da parte di coloro i quali avrebbero dovuto tener conto della sentenza della Corte Costituzionale e se non l'hanno fatto e hanno provveduto come dire in maniera definiamo superficiale a erogare queste somme e allora appare chiaro che probabilmente ci sono delle responsabilità. Sarà forse un'estate bollente anche per il rischio incendi ma l'Abruzzo sarà più preparato a far fronte all'emergenza grazie all'elicottero Augusta Bell AB412 che per tutta l'estate sarà pronto a intervenire dall'aeroporto di Pretura all'Aquila. Il nuovo mezzo antincendio è stato messo a disposizione alla protezione civile regionale dal Corpo Forestale dello Stato in virtù di un protocollo d'intesa firmato dal sottosegretario di Giunta Mario Mazzocca e dal comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Ciro Lungo. La B412 sarà in grado di trasportare mille litri d'acqua e otto persone a bordo e di arrivare nel punto di intervento in massimo 20 minuti su tutto il territorio regionale. In questo modo potrà garantire dall'11 luglio al 10 settembre nella fascia oraria dalle 10 alle 19 e per un massimo di 70 ore di volo il primo intervento in modo molto più tempestivo prima dell'arrivo dei Canader dall'aeroporto di Ciampino a Roma. Ma con la sottoscrizione della Convenzione Odienne con il Corpo Forestale dello Stato andiamo a completare e integrare un'attività sull'anticendio boschivo, quindi sulla prevenzione civile e sulla tutela e salvaguardia del nostro territorio che era già comunque di per sé stessa importante perché al di là della disponibilità già di un elicottero sinergicamente andiamo a investire su questa ulteriore unità di una certa importanza sia per qualità che per rilevanza e che si occuperà del tema della prevenzione e della repressione degli incendi soprattutto per le aree interne. Il mezzo sarà collocato presso l'aeroporto di Preturo e come dicevamo prima ha un carico fino a 1000 litri d'acqua quindi è decisivo nello spegnimento dagli incendi boschivi può trasportare fino ad 8 persone è operativo fino anche nel giro di pochi minuti 5-10 minuti riesce ad alzarsi in volo e raggiunge con facilità tutti i territori regionali.